Sono Maurizio Fugatti, oggi in Trentino ci sono 50 mila pensioni di vecchiaia erogate dall'Inps, l'assegno medio sono 570 euro. A noi spesso capita di vedere nei supermercati gli anziani che devono scegliere se comprare il pollo o comprare la bistecca e purtroppo alla fine comprano il pollo perché le risorse sono quelle che sono. Crediamo che la nostra autonomia, che è un'autonomia speciale, che ha le risorse per poter fare certe scelte, debba poter garantire a questi pensionati che hanno costruito il Trentino ed hanno contribuito a far crescere il nostro Trentino, debba garantire loro una pensione minima di 1000 euro perché altrimenti non siamo un'autonomia solidale, non siamo un'autonomia sociale. In Trentino la disoccupazione giovanile è al 25% quasi, a Bolzano è della metà, non capiamo come mai con le stesse risorse, la stessa autonomia, lo stesso statuto a Bolzano la disoccupazione giovanile sia alla metà di Trento e Trento abbia valori uguali al Veneto e uguali alla Lombardia. Negli ultimi 5 anni in Trentino il tasso di emigrazione, cioè i giovani che se ne vanno per cercare lavoro in altri paesi d'Europa, il tasso di emigrazione è aumentato del 35%, a Bolzano è rimasto sul 15%, siamo ai livelli della Lombardia e del Veneto sul tasso di emigrazione, dobbiamo aiutare i giovani, noi crediamo che ogni impresa che fa una nuova assunzione di giovani debba prendere dalla provincia un contributo di 500 Euro al mese, sono 6 mila Euro all'anno per ogni neoassunto, si abbatterebbe del 25% il costo del lavoro, in un anno con 30 milioni ci sarebbero 5 mila nuove assunzioni, crediamo che questa sia la strada a dare risorse alle imprese trentine che assumono giovani per diminuire il tasso di disoccupazione giovanile. Oggi mantenere un'automobile è diventato quasi un lusso, tra costi di manutenzione, bollo auto, benzina e spese varie è diventato quasi impossibile, la benzina sta prosciugando il portafoglio degli automobilisti. La nostra è una provincia autonoma che ha risorse per poter fare scelte a vantaggio dei cittadini, il bollo auto è una tassa provinciale dal 1999, non capiamo perché se abbiamo l'autonomia e quindi abbiamo più risorse delle altre regioni, in Trentino si deve pagare il bollo come si paga nelle altre regioni, noi crediamo che la provincia debba intervenire, fatte ovviamente le giuste valutazioni patrimoniali dei soggetti interessati, ma debba intervenire per far sì che le persone che hanno un'automobile inferiore ai 2000 di cilindrata possano avere dei forti vantaggi sul bollo auto fino anche a prevederne l'eliminazione, sarebbe un modo per la provincia di andare incontro alle problematiche economiche e di liquidità delle famiglie che oggi ci sono.